Una cartica che io guardo a dove te scrivi Che te sogni e che te chiedo tanto Che se al rato sta in mio corazon Latiendo por ti, latiendo por ti Ben tornati a tutti, eccoci di nuovo qui Beh, rieccoci qui di nuovo So sempre qui Non so scappato Ne volevo fare almeno un altro Sendo una vinta Una vinta, una persa Diciamo che ci sta come cosa Però speriamo di no Sala adatta, sala adatta Sala adatta Sala adatta, speriamo di andare bene qua Non saprei Credo forse anche per cambiare Ma come miniatura ne metto la cavolo Mi chiusa sempre uno per una sola partita un po' scocciolata Quindi Non sparata la cazzo Dai, mamma Ok, non mi fa Dai, ti No, non ho scocca Mi chiusa sempre Sto… 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 Ah, ok, ok Ma l'ha distrutto non mi distruggia allora ho dovuto mettere la cazzo mi hanno passato no no che basta che va subito Dio mio cambio caricatore che senso ha crepare in due secondi ho fatto una doppia senza neanche accorci che culo vabbè ho fatto una doppia così a culo io mentre speravo i banos stranamente beccato anche io prendo questo solamente perchè devo fare la sfida devo finire non so quanto mi manca perchè non c'ho neanche guardato non so se riesco a uccidere con blitz un po' di volte tipo 4 ho finito tipo non mi ricordo quanto ero 8 o 6 ok voglio andare su sicuro sennò che 2 o 3 forse l'ho già fatta se ne faccio 4 dovrei aver finito quindi sarebbe perfetto no sarebbe perfetto infatti sono ma sto morto ma i soliti posti sono subito con lì poi dopo con l'altra parte hanno metto con loro se si ho trovato vanno a mio vaivi 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 è una solista spottare gli altri 2 non è mai lui si un po' alle lui tanto svegliato porta come fatto di soli giornali tui ci posso vedere qua no metti metti allora se riesco da fare il giro più sbaglio rispondi una cosa volta da questa parte sbaglio sbaglio quando riesco uno lì vedo lì qua con lui sono lento perché mi arrampico arrivo quando è stato vecchio vediamo se riesco nooo e dai da dietro che cacchio uff niente non riesco fare chi niente niente potrò vincere un montaggio ma alla fine abbiamo capito che perdiamo ciò che c'hanno pulso è quello che non per caso è che c'è pulso sotto che c'è pulso che c'è pulso giù lui è qua dietro che un peracolo dai non ci credo che non hai visto no vabbè questo non l'ho visto no vabbè questo non l'ho visto vabbè vabbè eh dietro ce l'ha dietro ce l'ha no ma davvero fanno smettete di difendere la stanza davvero fanno no 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 davvero gioco no ah io non ho parole cioè ma uno più mongo dell'altro squadro no che palle però e questo vede che è contesa ed esce fuori quell'altro passatore con il drone e neanche lo vede come si fa a giocare così che tu palla ogni volta mamma mia sempre io devo avere i mongol sempre io che cacchio difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio non è che pareva che è già entrato il drone non è che pareva che è già entrato il drone VOC cuore 14 la piatta il cliché il drone nemico ha individuata e il contenitore di bior anzio fenomeni contro la parola un po' marrot però eh e basta a fare sempre ammazzare, basta mamma mia come te vanno a fare le spanchi? per forza, il pulso e te pare io allora della medicina ma ho capito andiamo a perdere capito capito il nemico si sta attestando del contenitore ma vabbè ma vaffanculo dio ca dio ca che cazzo che ho detto io una squadra di merda l'ho detto io poi vabbè io ho spalato e morto va bene facciamo stare fa incazzare ste cose mi fanno incazzare moneta va va andiamo a perdere andiamo a perdere perchè noi siamo bravi andiamo a perdere e quindi andiamo a perdere ma dai non ci piace vincere io c'ho la mina di merda logicamente ho sparato a quello di a dash ma boh è come se non avessi sparato ma va bene allora non so dove eravamo noi in ufficio che mi distruggeva era normale oh no ce la dovrei fare se non lo chiudo lì dovrei entrare da lì 10 secondi vorrei andare da lì se non chiudono ok mi domando perchè ho preso glaz strano lo stanno facendo qui strano che non hanno preso pulso e occhio che ci potrebbe essere una telecamera e c'è Valkyria quindi occhio occhio adesso una telecamera no zero no 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 Bambucola Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato la minaccia Quello cazzo è Ma guarda qua sotto Vabbè due l'ho fatti Beh, è andato bene come attacco Ho fatto due kill Basta, riesco a fare altre due So più tranquillo Sendo che ho visto che non serve molto Se grazie lo avrei io Perché mi voglio mettere A fare spawn kill Cioè non proprio spawn kill Ma proprio più o meno quello Cioè prima preso No, io Così spawnano di nuovo Eh, grazie, grazie Eh, così spawnano di nuovo Ed entrano di nuovo Vabbè Contentivo e contentito Vabbè Non mi cambia tanto Perdiamo, perdiamo Vinciamo, vinciamo Oh Oh, va sta No, vabbè Che cazzo di milioni Guarda Ok Piazzo A cinque secondi Adesso l'incasino Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Il nemico si scoprirà se rimane in questa zona Il nemico è cercato Vincito che la porta Sei in una zona controllata dal nemico Lasciala subito Cioè rischiare per te Mamma Sì, io so che mi scoprirò Oddio, lo so Chi è morto? Dove è morto? Poi muoiono i compagni senza neanche sapere dove A me hanno fatto il giro d'altra parte Dove è che cacchio? No, dai Che cacchio da sotto E curati anche te, Doc Doc Corri Corri No Ottimo attaccante rimasto in vita Ok Vediamo se riesco a sputtarlo Chi, io mi ho quel maledetto Eccolo qui Eccolo qui E' l'ultimo E' lui E' lui Maverine Non capiva che c'era la telecamera qua E' proprio quello che ha ammazzato me Giacal 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 Che cacchio Devo riprovare Cioè devo ancora usare O ritorno lì O nella stanza da letto ero O dormitore Che cacchio Che Vielen Giacal iedi grazenziato Giacal 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 A un'altra G ceremonia Eccolo O al Zいただ La letto Giu Giù giù come metteranno lì, infatti ci provo no, e l'altro abbiamo visto ah, non ho preso più quello lento ok ok no ma vini allora non ho preso più, vediamo no, occhio, cacchio ok, riproviamo stiamo a tenter spawn perchè poi magari mi sparano dalla porta sembra di no, sembra che tutti stavano di vicino qualcuno è uscito non è genial non sparate a cazzo, per favore un nemico è levato all'esterno ah, di qua, ok ok, lui è morto no nooo finiti i coltis fanno a cazzo guardi già nooo avevo fatto niente qua eh vabbè eh 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 vabbè ho scavolato lì però è forte però non ti vedo che si muore a random vabbè con quest'altra vittoria ragazzi ci è giocato meglio sembra dell'altro della prima sembra che ho giocato un pochettino meglio ci salutiamo qui e ci vediamo nel prossimo bella vabbè aspetta vediamo se vinco un po' se vinco un pacchetto me lo apro vediamo ma col cazzo vabbè alla prossima ci vediamo bella a tutti ciao ciao ciao